... Vola al turismo in Friuli, Venezia Giulia. Nei primi nove mesi dell'anno, 400.000 presenze in più rispetto al 2015, migliora la situazione in tutta la regione. Il vicepresidente Bolzonella ora al turismo è una vera industria. Dopo il primo freddo, i chirurghi plastici dell'ospedale di Udine lanciano l'alarma ed invitano i cittadini a non alimentare il fuoco con alcol. Negli ultimi giorni a Udine sono state ricordate tre persone con gravi ustioni. I presidenti italiano Mattarella e sloveno Pahore in occasione della visita a Gorizia si confronteranno sul futuro dell'Europa all'incontro programmato al Teatro Verdi i protagonisti e anche gli studenti. Domenica prossima si vota con il rinnovo di quattro amministrazioni comunali Codro, Iponimis, Monfalcone e Ronchi dei regionari. Urne aperte dalle 7 del mattino alle 23, lunedì dalle 8, lo spoglio delle schede. Andrea Coda salterà domenica la partita contro l'Udinese. si è raccontato il Pescara di Otto, motivazione per il gioco e il sogno di essere il nuovo gioiello di provincia. E Verre è un talento. Signore e signori buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Dopo tre anni consecutivi di calo, negli ultimi due il comparto turistico registra in Friuli-Venezia-Giulia un aumento significativo. Dal 1 gennaio al 30 settembre sono state registrate oltre 400 mila presenze in più rispetto al 2015, più 5,7%. La situazione è migliorata su tutto il territorio regionale e per ogni tipologia di struttura ricettiva. L'apertura. Vicepresidente Bolzonella, oggi sono stati illustrati i dati degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive del Friuli-Venezia-Giulia da gennaio-settembre. Sono dati record. Sono dati record. Ce li aspettavamo, ma non così buoni. Abbiamo avviato ai 20 giorni questi sì tragici di giugno e devo dire che luglio, agosto e settembre sono stati veramente tre grandi mesi per il turismo del Friuli-Venezia-Giulia, sia sul mare che in montagna, che nelle città d'arte, nelle città di business e quindi abbiamo avuto veramente una grande annata fino al 30 settembre. Ottobre abbiamo già dati super positivi che aumenteranno ancora quindi la già grande performance e adesso poi aspettiamo ovviamente novembre-dicembre, ma prenotazioni ce ne sono già, gli alberiatori della montagna sono molto fiduciori. Oggi abbiamo un risultato importantissimo con arrivi sopra il 15% proprio per quanto riguarda l'Austria, quanto riguarda la Germania e in particolare la Baviera. Se tutti questi dati sono così positivi è sicuramente perché la regione si è messa a fare realmente turismo industriale, non solo manifestazioni, ma perché gli operatori ci stanno credendo. Io do un grande grazie a tutti gli operatori, siano loro raggruppati in consorsi, in reti di imprese, singoli, ci stanno credendo, stanno professionalizzando, ci stanno formando il proprio personale e quindi c'è un cambio di passo del turismo del Friuli-Venezia-Giulia. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine hanno denunciato 18 persone e sono accusate di gestione non a norma di 17 discariche in provincia di Udine. In ambito di una mirata serie di controlli ambientali, nel corso dell'ultimo semestre i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine hanno effettuato un'accurata verifica nelle diverse discariche della provincia friulana per accertare il rispetto dei decreti autorizzativi. I militari dell'arma hanno riscontrato criticità in 17 siti, in particolare sulla gestione delle discariche post-mortem, ovvero dopo la loro chiusura. Le principali violazioni emerse sono l'ommessa perforazione dei pozzi di monitoraggio delle falde acquifere, il mancato versamento delle fidei usioni all'autorità amministrativa e l'ommessa chiusura delle discariche in base alle normative. Alla luce delle violazioni riscontrate sono state denunciate in stato di libertà 18 persone, responsabili, a vario titolo, delle società che avevano avuto in gestione le discariche monitorate. I controlli svolti hanno richiesto l'acquisizione di una notevole molle di documentazione che è stata sottoposta all'esame della Polizia Giudiziaria. Un incidente multiplo è venuto oggi pomeriggio sulla strada provinciale Osovana causando alcuni feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti né per il traffico. Un'auto che procedeva da Pagnacco in direzione di Coloredo è uscita autonomamente di strada a fine di un fosso, un furgone arrestatosi sull'altra corsia per vedere la caduta, è stato centrato da un'auto che a sua volta è stata colpita da una moto. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito gravemente ma sul posto è comunque intervenuto il personale del 118 per le cure. E ora le notizie di cronaca in pillole. Un ragazzino è stato investito in piazza Garibaldi a Udine mentre un cinquantenne di Maiano ha aggredito a parole i carabinieri rifiutando di fornire le proprie generalità. Un cinquantenne di Maiano la scorsa notte è stato denunciato per resistenza e oltraggio pubblico ufficiale e rifiuto da fornire le generalità. I carabinieri della stazione locale lo hanno rintracciato in centro, appena uscito di casa dopo aver litigato con la moglie. All'interstizione tra via Cussignacco e piazza Garibaldi a Udine un ragazzino è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto. Il giovane fortunatamente non ha subito ferite gravi e sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia locale di Udine per gli accertamenti. I carabinieri di Palmanova, insieme al personale della polizia locale e con l'aiuto dell'unità cinofila, hanno controllato i parchi cittadini Reghen e Galvani. Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, fra cui due cittadini extracomunitari privi di documenti regolari e per questo denunciati. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Sacile per guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, conseguente ritiro della patente. In più, un 26enne di Fontana Fredda è stato multato per ubriachezza molesta, dopo essere stato fermato mentre barcollava lungo la Pontebana. Invece, un vent'ana di Pordenone è stato segnalato alla Prefettura per uso di droghe e gli sono stati sequestrati sei grammi di marijuana. Sono stati celebrati questa mattina i vent'anni della sottosezione Polizia Stradale di Palmanova, istituita nel 1996 al posto di quella di Cervignano. La Polstrada, dovrebbe esserci proprio un video riferito proprio a questo evento, la Polstrada di Palmanova controlla 24 ore su 24, 140 km di autostrade da Udine Sud a Palmanova sulla A23, da Portoguaro a Villesse sulla A4. Dopo la benedizione, in partita dall'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento al personale in servizio sin dal primo giorno della sottosezione per poi mostrare ai presenti e agli ospiti i numeri di questi vent'anni. In questo ventennio, la Polstrada di Palmanova ha controllato oltre 800.000 veicoli, segnalando più di 255.000 infrazioni al codice della strada e ritirando 14.600 patenti. È stato allestito anche il percorso fotografico e eventi insieme all'interno della caserma e nel piazzale. Sono stati esposti i mezzi storici della Polizia Stradale della Giulietta 1300 degli anni 50, la Lamborghini Gallardo per il trasporto organi in emergenza. Queste sono immagini che sono state girate sia per quello che concerne la presentazione, alla quale rappresenta anche la sua eccellenza il vescovo di Udine Mazzoccato, accolto dal comandante della provincia di Udine per la Polizia Stradale. Questo invece è l'arrivo del signor prefetto. Quindi un evento particolarmente importante, appunto celebrato a Palmanova. Le immagini, lo ripeto, sono state girate dal Carmine Sicondolfi. Non alimentate il fuoco utilizzando l'alcol. È l'appello che lanciano i chirurghi plastici dell'ospedale di Udine che nelle ultime due settimane hanno ricoverato tre persone con gravissime ustioni provocate dallo scoppio di bottiglietti di plastica con alcol. Due settimane abbiamo avuto almeno tre o quattro casi di questo genere. Ovviamente molti altri, anche diversi, ma di questo genere in particolare perché è molto più semplice cercare di ravvivare un fuoco buttandoci qualcosa sopra e senza nemmeno pensare che questo qualcosa è un liquido infiammabilissimo che poi determina l'esplosione della bottiglietta per cui anche una bottiglia che ha di per sé metà del livello del contenuto di alcol nel momento in cui esplode e chiaramente si incendia determina dei danni gravissimi, volto, braccia, torace e poi chiaramente bisogna avere la fortuna di non avere vestiti infiammabili perché se uno è vestito di qualche materiale sintetico è una fiammata che si espande chiaramente a tutto il corpo in un momento solo. La prima cosa sicuramente è quella di raffreddare l'area ustionata. Sembra una banalità ma nel momento in cui avviene l'ustione abbiamo un certo numero di secondi per cercare di limitare il danno e questo si può fare solo raffreddando la parte. Sono stati fatti due tentativi da parte della società italiana Ustioni quindi una società scientifica nazionale per cercare di convincere il ministero a emanare una norma che proibisse l'uso delle bottiglie di alcol per l'utilizzo nella popolazione quindi che non si potessero trovare bottiglie di alcol in plastica nei negozi e questo non siamo mai riusciti ad ottenerlo. Sembra oramai scontato che il governo austriaco non farà passi indietro sulla chiusura della Ipo Alpeadria Bank se così sarà il destino dei 109 lavoratori italiani sarà deciso al tavolo che dovrà essere convocato al ministero del lavoro. Scadranno lunedì prossimo i 45 giorni della procedura prevista per trovare un'intesa sul salvataggio di Ipo Alpeadria Bank. Se il governo austriaco confermerà la volontà di chiudere l'istituto da quel momento ci saranno 30 giorni di tempo per trovare al tavolo del ministero del lavoro un accordo per definire il licenziamento e il futuro di 109 dipendenti della banca e a quel tavolo, se sarà convocato come pare siederà anche la regione il cui impegno sarà quello di ottenere il massimo. L'ha fatto sapere la governatrice Deborah Serracchiani nel corso di un'audizione in prima commissione consigliare alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti sindacali che hanno chiesto un sostegno istituzionale alla negoziazione. Durante l'incontro si è avuta conferma del fatto che i clienti della banca non rischiano nulla poiché non vi sono problemi di copertura dei depositi dei clienti. Le ombre riguardano i dipendenti. Posto che abbiamo scarse possibilità di pesare sugli incentivi per il prepensionamento, ha spiegato Serracchiani, si dovrà trattare di buone uscite che dovranno essere messe sul piatto dall'azienda. La Presidente ha ricordato come la regione sin dall'inizio abbia coinvolto i massimi vertici istituzionali italiani, incontrato i vertici della holding che controlla la banca è interessato lo stesso governo austriaco che detiene la proprietà nella convinzione che fosse possibile vendere l'intero asset. Serracchiani ha quindi riferito che dal confronto con i massimi rappresentanti di ABI e Banca d'Italia è emerso come non vi siano le condizioni tecniche per accedere al Fondo Atlante, nato per intervenire nelle crisi bancarie, né per un commissariamento dell'istituto da parte degli organi di vigilanza. Puntano il dito contro la prevista introduzione del gestore unico regionale del trasporto pubblico locale, i lavoratori del comparto aderenti all'Unione Sindacale di Base che per venerdì 21 ottobre ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore. A Udine, a Gorizia, il servizio urbano e extraurbano potrà fermarsi dalle 2 alle 6, dalle 9 alle 12, dalle 15 e 30 a fine servizio. A Pordenone lo sciopero riguarderà la fascia 2, 6, 9, 12 e 30, 15 e 30 a fine servizio. Analoghi gli orari anche a Trieste dove la fascia delle 9 si allungherà fino alle 13 e quella del pomeriggio partirà dalle 16. In Friuli Venezia Giulia stiamo assistendo a una nuova fase di privatizzazione spiega Willy Puglia che nel 2001 aveva portato a minori condizioni di sicurezza. Secondo l'USB anche l'utenza avrà da perdere in questa nuova gestione unica perché il servizio potrebbe subire peggioramenti nel momento in cui il 20% dello stesso sarà affidato in subappalto come previsto dalla normativa. Nei primi 8 mesi del 2016 le nuove assunzioni a tempo indeterminato in Friuli Venezia Giulia sono in calo del 38,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente una flessione più marcata rispetto al dato nazionale. La dinamica negativa rileva al ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo che ha curato la rielaborazione dei dati IMS e consolidata in parte conseguenza della forte accelerazione di dicembre 2015. La regione minimizza ma la possibilità che il Friuli come la Sicilia e altre amministrazioni sia costretta a pagare multe milionari all'Unione Europea per infrazioni nel sistema idrico e di depurazione delle acque nere si fa sempre più concreto. Con la necessità di forti investimenti in infrastrutture, probabili aumenti in bolletta la procedura è aperta da anni e i contorni non sono chiari anche se si parla di una multa di 66 milioni all'anno finché il sistema non sarà in regola. Finora non è stata notificata alcuna sanzione replica all'assessorato regionale all'ambiente dove si ricorda che le condanne sono state ereditate dalla precedente legislatura. Il futuro dell'Europa sarà il tema che i capi di Stato italiano e sloveno Mattarella e Pajor affronteranno in occasione della loro visita a Gorizia mercoledì 26 ottobre. In platea ci saranno anche studenti delle scuole cittadine. La visita a Gorizia dei presidenti Sergio Mattarella e Borut Pajor non rappresenterà solo un omaggio alla città ma si trasformerà in un momento di riflessione sull'Europa. L'evento programmato mercoledì 26 ottobre al Teatro Verdi avrà come titolo L'Europa luogo di superamento dei conflitti in occasione del centenario dell'Unione di Gorizia all'Italia. Dopo gli interventi del sindaco di Gorizia Ettore Romoli del primo cittadino di Nova Gorizia Mattei Arcon e della presidente della regione Deborah Serracchiani il tema sarà affrontato sotto il profilo storico dal professor George Mayer coordinatore del corso di Scienze Internazionali Diplomatiche dell'Università di Trieste a Gorizia seguiranno le conclusioni dei capi di Stato sloveno Pajor e italiano Mattarella Il nostro territorio che con grande coraggio sta cercando di superare i conflitti a volte drammatici del passato nell'interesse delle nostre comunità è sicuramente il luogo ideale per parlare del futuro dell'Europa rimarca il sindaco di Gorizia Sul palco del Verdi salirà anche un gruppo di alunni delle scuole elementari di lingua italiana e di lingua slovena che canteranno i due inni nazionali in onore dei presidenti molti saranno gli studenti che siederanno in platea Confermato il programma della visita del capo dello Stato Mattarella arriverà a Gorizia da Trieste verso le 10.30 si fermerà al parco della rimembranza dove depositerà una corona al monumento dei caduti e renderà omaggio al lapidario dei deportati raggiungerà poi il Teatro Verdi per l'evento con Pajor infine i due capi di Stato si recheranno a Doberdò del Lago è online su agenzia demanio.it la consultazione pubblica per la caserma Totti Bergamas un complesso immobiliare da recuperare nel cuore di Gradisca di Sonzo l'iniziativa presentata oggi in municipio ha l'obiettivo di facilitare il confronto con il territorio invitando i cittadini e gli operatori del mercato a proporre entro il 2 dicembre un progetto di riqualificazione per l'ex struttura militare un complesso pari a 50.000 metri quadri domenica 23 ottobre dalle 7 alle 23 si voterà per il rinnovo degli organi di 4 comuni si tratta di Codroipo e Monfalcone con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i quali è previsto l'eventuale turno di ballottaggio 6 novembre Ronchi dei Legionari e Nimis sono 4 le amministrazioni comunali che il 23 ottobre andranno a rinnovo si tratta di Codroipo Monfalcone Nimis e Ronchi dei Legionari per i comuni di Codroipo Monfalcone e Ronchi i cui organi scadevano a primavera lo slittamento del voto è conseguenza dell'esito negativo del referendum sulla fusione del 19 giugno per Nimis invece attualmente commissariato la nuova chiamata alle urne dipende dall'annullamento dell'elezione del 5 giugno dove si era presentato un solo candidato ma non si era raggiunto il quorum a Codroipo doppia sfida al sindaco uscente Fabio Marchetti espressione del centro-destra a scendere in campo sono Alberto Soramel per il centro-sinistra e Graziano Ganzit espressione della civica Codroipo nel cuore a Monfalcone sarà una corsa a quattro tutta al femminile accanto al sindaco uscente Silvia Altran del centro-sinistra sono Inlizza Elisabetta Maccarini del Movimento 5 Stelle Susanna Cullier di Alternativa per Monfalcone e Anna Maria Cisint per il centro-destra a Nimis ci riprova Walter Tosolini questa volta però altre due persone scendono in campo si tratta di Gloria Bressani Rinova Nimis e Gabriele Vaccarin di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Tiare di Nimis più affollata infine la sfida Ronchi per il sostituto di Roberto Fontanotte la corsa infatti sarà a cinque tra Giovanni De Genard Ronchi Viva Lorena Casasola del Movimento 5 Stelle l'ex vice sindaco Livio Vecchiette con alcune civiche l'ex assessore di Messosia d'Agosto Enrico Masarà per il centro-sinistra e Luigi Bon di sinistra per Ronchi di Fondazione Comunista In occasione della settima serata sull'Alzheimer venerdì 21 al Palamostre di Udine è stato organizzato un evento interdisciplinare per parlare della malattia grazie all'impegno dell'Associazione Alzheimer Udine organizzato insieme all'ANAP ANCOS di Confartigianato e alla Maico l'intervento di Enzo Cainero e Franco Causio l'evento mira a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di questa malattia favorendo la prevenzione e la conoscenza la serata di ingresso gratuito sarà presentata da Dario Zampa grande festa a Grado per l'insediamento di Monsignor Bellomo il servizio di Ivan Bianchi che ha aderito al progetto Cento Reporter Grado ha salutato il suo nuovo pastore Monsignor Michele Centomo è diventato il nuovo arciprete parroco della millenaria basilica gradese succedendo a Monsignor Armando Zorzin in carica dal 1999 al mese scorso ad accogliere il sacerdote tutte le associazioni dell'isola assieme al sindaco Dario Raugna uno scrosciante e commosso applauso ha preceduto il solenne ingresso di Don Michele nativo di San Quirico in provincia di Vicenza e fino a ieri parroco di Aquileia di basilica in basilica dunque mantenendo comunque gli stessi patroni i santi Ermagora e Fortunato a presentare alla comunità il nuovo parroco è stato l'arcivescovo di Gorizia Monsignor Redaelli che ha augurato ai graisani di collaborare nel Vangelo assieme alla loro nuova guida la celebrazione della Santa Messa poi accompagnata dalla corale orchestrale Santa Cecilia di Grado diretta dal maestro Annello Boemo ha visto la partecipazione di tutti gli ex cappellani della basilica e degli stessi sacerdoti nativi dell'isola momenti toccanti preceduti dalla visita dello stesso Monsignore dapprima al cimitero civile per incontrare i suoi predecessori e poi alla casa di riposo casa serena per andare incontro agli anziani che non hanno potuto partecipare in prima persona alla celebrazione un momento particolare per tutti i presenti che sono stati accomunati nel momento conviviale e conclusivo dove ognuno con le proprie esperienze è stato possibile scambiare qualche parola con il nuovo arciprete per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio recita un proverbio africano e la comunità di Visandone ha appena confermato il proprio impegno nell'educazione dei più piccoli la comunità di Visandone ha festeggiato il suo asilo che dal 1953 accoglie i piccoli paesani infatti l'edificio realizzato nel 1963 è stato interessato da un lungo ciclo di lavori di ristrutturazione avviati nel 2007 e che hanno richiesto un investimento di 400 mila euro la scuola di infanzia intitolata Maria del Giudice accoglie mediamente una settantina di bambini ed è gestita da una fondazione locale l'opera di ristrutturazione è stata resa possibile da contributi pubblici in particolare regione e provincia ma anche da donazioni e lasciti di singoli cittadini come la famiglia Dodorico e altre che hanno voluto rimanere anonime proprio per ringraziare i benefattori della loro generosità è stata realizzata una targa commemorativa alla festa inaugurale che ha coinciso con la celebrazione religiosa del perdon hanno partecipato tra gli altri il presidente del consiglio regionale Franco Jacop l'assessore provinciale Marco Quai e il sindaco di Basiliano Marco Del Negro tutti gli appassionati di fornelli e di cucina tipica friulana hanno l'occasione di esprimere la propria scusate la propria fantasia grazie al concorso organizzato dal settimanale il friuli in ogni casa friulana si nasconde una ricetta personale del frico col formaggio fresco magari le strisulis oppure con quello vecchio con patate o senza con cipolla ma anche le erbe e addirittura le mele il frico è a ragione il piatto bandiera del friuli per questo il settimanale il friuli ha inteso valorizzarlo attraverso la passione per i fornelli dei lettori inviate alla redazione la vostra ricetta personalizzata ispirata alla tradizione di famiglia oppure da voi inventate arricchita con ingredienti più o meno consueti a giudicare i vostri frico saranno due chef di altissimo livello Paolo Zopolatti di Cormons volto noto della tv e Daniele Cortiula anima attuale della cucina di Carnia i vincitori riceveranno prodotti a marchio AQA delle aziende Pomis del salumificio Pantarotto e della lateria di Visinale le ricette possibilmente anche con foto del piatto vanno inviate alla email sapori chiocciolelfriuli.it oppure all'indirizzo della redazione in via nazionale 120 33010 Tavagnacco E adesso siamo pronti con la vignetta di Fernando Venturini E siamo arrivati alla pagina bianconera Giovanni Galeone con il cuore diviso a metà tra Udine e Pescara a sentire lui proprio noi una lunga intervista al messaggero il tecnico chiaramente indicato per chi farà il tifo domenica ovviamente tifo Pescara e non chiedetemi perché lo sapete perfettamente Udine è una città bella civile mi sono affezionato ma io amo Pescara è come avere sposato una donna carina simpatica educata alla quale vuoi bene ma poi hai sempre in mente un'altra giorno e notte pensi sempre a lei qui a Udine ogni mattina mi alzo e comincio a imprecare contro il freddo le nuvole la nebbia al grigio quando io dico molti non ci credono ma io quando sono a Pescara sto meglio anche fisicamente mi sento bene e sulla partita giunge due o tre settimane fa non ci sarebbe stata storia sono sicuro che i biancazzurri avrebbero vinto ma oggi le cose sono un po' cambiate l'arrivo di Del Neri sulla panchina bianconera ha portato miglioramenti immediati non solo tattici non solo di mentalità ma anche per quello che riguarda le scelte di formazione non sarà una partita facile e veniamo all'Udinese che ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della prossima sfida quella al Friuli contro il Pescara nel frattempo in mattinata Emanuele Badu rientrato a Udine si è sottoposto agli esarmi chimico-clinici che attraverso l'analisi del sangue accerteranno il suo stato di salute Badu comunque si è messo al lavoro nel pomeriggio in palestra palestra in mattinata anche per Cone che cerca di accelerare i tempi di recupero Del Neri ha conosciuto oggi anche Francesco Lodi che si è aggregato al gruppo e ha svolto quasi tutta la seduta con i compagni Per motivi logistici la squadra si è allenata oggi nel campo 4 gruppo come detto quasi al completo per Del Neri che per domenica dovrebbe riavere a disposizione anche Wittmer e Alfredson domani in programma una doppia seduta Il Pescara è una società ambiziosa che vuole diventare un nuovo gioiellino di provincia come Empoli, Chievo e la stessa Udinese venderemo cara la pelle a Udine l'ex Udinese Andrea Coda a Udine domenica non ci sarà perché squalificato ci ha raccontato com'è la squadra allenata da Oddo e che ha creduto in lui Anche perché comunque è già un attenzio che non vengo su e quindi avrei voluto rincontrare molti amici e comunque risultare nello stadio nuovo l'ultima volta che ci ha giocato c'erano ancora i lavori È il momento peggiore per voi secondo te per la sorta dell'Udinese? Sì ha fatto sicuramente il cambio allenatore porta sempre magari un pizzico in più da parte di tutti però è anche vero che noi siamo una squadra ecco giovane esperta allo stesso tempo che magari si completa ecco con alcuni giocatori di prospettiva e noi ogni partita per noi è una battaglia perché comunque sappiamo di essere dove dobbiamo andare incontro ecco alla fine del campionato al 95esimo minuto che sarà Firenze poi magari che ci voglia magari un po' più di partite un po' più di tempo questo è un altro discorso e spero ecco che anche da parte dei giovani nostri venga mi confermino ecco quello che penso di loro perché comunque Benalì Zampano Verre Caprari sono tutti grandissimi giocatori Verre secondo me è un grandissimo giocatore ha sicuramente un avvenire perché comunque ha fatto vedere ottime cose sia da mezzala che da diciamo seconda punta punta la punta ecco nell'albero di Natale però non so come mai ecco nel Audine non è rientrato nei piani a livello umano anche con la società il presidente dico la verità ho trovato veramente una piccola famiglia dove dove stanno cercando ecco di migliorare quelle di trovare ecco degli accorgimenti per creare proprio una nicchia di provincia come può essere Udine Empoli Chievo con le sensazioni di Andrea Coda termina il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per la vostra cortesa e fedele attenzione mi ricordo che alle 20.45 vi aspetto con la trasmissione Lo Scrigno fra poco dunque Grazie a tutti